Ecco, però è certo che in ogni caso di tutta la narrazione del processo mai si trova qualcosa come una sentenza. E' sempre soltanto questa consegna. Fino all'inizio Pilato, del resto non aveva fatto che pergiversare, ricordate, cerca di evitare a tutti i costi di dover aggiudicare, di pronunciare il giudizio, lo rimanda Erode all'inizio sollevato una questione di competenza, poi fa flagellare l'accusato verso tra l'altro l'accusa, solo alla fine lo consegna senza però pronunciare la sentenza. Quindi è stato un processo, ma questo non si è concluso con un giudizio. Questo arriva nel mio problema ancora più oscuro. Che cos'è un processo senza giudizio? E ancora di più che cos'è una pena, la crocifissione, la pena in cui Gesù si sottopone, se non consegna un giudizio. In certo senso quindi Pilato, il prefetto della Giudea, non ha pronunciato un giudizio su Gesù. Gesù, il cui regno non è di questo mondo, si è sottoposto al potere legittimo di Pilato, ma Pilato non ha pronunciato un giudizio. Un grande giurista italiano, che è anche un grande scrittore, Sebastiano Satta, ha scritto nel 1968 un bellissimo libretto che vi consiglio, se avete tempo di leggere, che si chiama il mistero del processo, era uno specialista di diritto processuale. E forse la più acuta riflessione che un giurista abbia mai fatto sulla sua maniera. Satta si chiede che cos'è un processo, che cosa tende un processo, risponde, è tutto forniante rispondere come si fa di solito, che il processo tende all'attuazione della legge, alla ricerca della giustizia, a trovare la giustizia, la verità, Satta, a Sabinisti le risponde, se ciò fosse vero, non si comprenderebbe la forza di giudicato che comprende una sentenza individentemente della sua essere giusta o ingiusta. Non vuoi sapere che la sentenza si è fatta di giudicato, non importa più se fosse sbagliato o giusto o non giusto. Quindi, Satta trae la conseguenza che se ci deve essere uno scopo al processo, questo non può essere altro che il fatto di pronunciare un giudizio, non un giudizio vero o falso, un giudizio. La pronuncia di un giudizio, la resta dedicata, la sentenza si sostituisce la verità e la giustizia, è il fine ultimo del processo di Satta. Però dice anche, questo non è uno scopo esterno al processo, perché il processo dall'inizio alla fine non è altro che, come si diceva appunto, il termine processo, viene da processo sui giudizi, è il processo di formazione di giudizio. In questo senso, è un atto che in sé stesso il suo scopo non ha uno scopo. In questo, dice Satta, è il mistero del processo, che è lo stesso mistero della vita che procede e si svolge l'inchiesta senza scopo e senza sosta, finché per un attimo si arresta per sottoporsi al giudizio. E di quest'atto, senza scopo, in questo esatto, gli uomini sembrano aver fatto, aver attribuito una natura divina, no? Se non sono dati in valida questo giudizio. Ecco, allora, se questo è vero, se è stata ragione, credo che abbia ragione, un processo senza giudizio, come quello di Pilato e Gesù, è una contraddizione interna. Questo è tanto vero che i codici moderni, a cominciare dall'articolo 4 del Codo Napoleone, sanciscono l'obbligo per il giudice di pronunciare il giudizio. Sono spese, invece, di circolo dell'articolo 4, il giudice che si definirà di giudicare sotto per testo di silenzio, oscurità e insufficienza della legge, potrà essere perseguibile in quanto coltevole di diliego di giustizia. Ecco, vedete, quindi, il processo debito in un giudizio, almeno per le modelle. Ecco, quindi, questo evento decisivo della storia dell'umanità, di incontro, scontro, fra i due mondi, l'umano e il divino, il temporale e l'eterno, alla forma di un processo che non è veramente tale, perché non si conclude con il giudizio. Se non vi è stato il giudizio, è anche la pena. La crocifissione non è una vera pena. E come il processo è qualcosa da cui è difficile trovare un nome. Pascal ha scritto una cosa molto profonda, ha scritto «Cristo ha voluto essere ucciso nella forma della giustizia perché questa è la morte più ignominiosa». E allora, ancora più ignominiosa, è la morte che non consegue un processo, perché non c'è stato giudizio. Oppure segue un processo senza demenzio. Ed è questa, quanto sembra, la morte che Gesù ha scelto di subire. È un po', se ricordate il processo di cantica, è un po' come la morte del protagonista del processo. Anche qui non c'è assolutamente una salvezza, dittura forse non c'è ne stato nello il processo. E tuttavia, alla fine, il coltello, la scena finale, il coltello del crimine che ci è il pezzo, tra il cuore, non ciò si accatta, che dice che gli imparano che la sua vergogna sarebbe sopravvissuta, quindi una morte veramente ignominiosa. Allora, se questo è vero e gli impara che sia filologicamente vero, perché non si è voluto vedere questo fatto evidente quanto imbarazzante. Invece sembra che si è visto il processo di Pilato come un processo di termine come l'assistenza di un'ottanta morte. Ecco, io credo che non si tratti di una negligenza di lettura e alla base di una fondamentale ragione teologico-politica che, per esempio, tra tanti autori, Dante esprime con chiarezza nel De Monarchia, Dante nomina Pilato nel De Monarchia, e dice che perché l'umanità fosse riscattata dal peccato attraverso la crocifissione, era necessario che Cristo fosse sottoposto al giudizio del giudice legittimo, che avesse la giurisdizione su tutto il genere umano. No, è in questione la redenzione di tutto il genere umano e quindi è importante che Cristo subisse una condanna da un giudice che rappresentava un giudice su tutto, come era l'impero romano. Un tale giudice potrebbe essere quindi soltanto rappresentata dall'impero romano, qui vi cito Dante, se pertanto Cristo non avesse subito il giudizio di un giudice legittimo, la sua pena non sarebbe stata una punizione. Il giudice legittimo poteva essere non solo quello che aveva la giurisdizione su tutto il genere umano, in modo che il genere umano fosse punito nella carne di Cristo. E Tiberio Cesare, cui Pilato era radicale, non avrebbe avuto la giurisdizione se l'impero romano non fosse stato legittimo. Come vedete, c'è proprio una ragione teologico-politica. Dante si tratta di giustificare il potere dell'impero e quello della Chiesa, non come parli di fronte all'altra, ma legati a questo fatto, a questo impulso nel processo di Gesù. non c'è questo incontro tra le sue potere. Quindi, Dante, però non fa che riprendere un più antico motivo che era stato lavorato dai padri a partire dal momento in cui c'è l'alleanza tra la Chiesa e l'impero con Costantino, quindi Eusebio, un grande padre della Chiesa che è stato ironicamente definito il parrucchier della parrucca di Costantino, e poi il filolo, l'ambrogio, il risotto, sviluppano tutti questi motivi. È importante che l'impero romano sia un potere legittimo su tutta la Terra perché in questo modo Cristo, sottoponendosi a questo potere, può redimere l'intera umanità. La lettura diventa importantissima in questi autori il fatto, come ricorderete, che quando, al momento della nascita di Gesù, Augusto proclama un evito di un censimento di tutta la qualazione dell'impero e quindi Cristo, che si è fatto uomo, risulta, è iscritto, censito come uomo nel censimento di Augusto. E questo, ancora, stringe insieme in una prospettiva teologico-politica, i due mondi, i due poteri. E credo che sia anche questa la ragione per cui Pilato è stato incluso nel credo che lo sta più importantando, non soltanto perché storicamente era una data importante, ma anche perché il potere che ormai era un alleato nella Chiesa non ci si trasse. Se però Pilato, come è nella vera ricostruzione, non ha emesso un giudizio legittimo, allora questo appuntamento per indicare l'iscesa di Gesù tra la legge umana e il divino fra la città terrena e quella celeste, viene a capire per la sua ragione. E credo che venga a capire appunto ogni possibilità di una giustificazione teologico-politica, di una teologia politica cristiana, una giustificazione teologica del potere profano. E quindi siamo ricondotti davanti a un altro mistero che non è quello del processo che è giudizio, ma quello di un processo senza giudizio, cioè un processo in cui nessuna delle due parti può giudicare. Quando Santa dice il mistero, il processo di mistero, il mistero diventa inteso nel senso che era di origine a parola in greco, cioè il dramma, un dramma, quasi del dramma. Il mistero così era una specie di pantolima a cui l'iniziato assisteva e aveva una vicenda celeste divina in cui la sua esperienza poteva orientarsi. Però questo non è che i due mondi sono separati. Non c'è giudizio. E ovvio che non c'è giudizio da parte di Gesù perché questo è del tutto coerente non solo con la sua posizione di imputato ma anche con le sue parole. Ricorderete la critica radicale di ogni giudizio che è parte essenziale dell'insegnamento di Gesù. In Città Matteo 7.1 non giudicate in mecri affinché non siate giudicati. Qui fanno le cose parole di Paolo nelle lettere romane in mecri e non giudicino. E nel Paggiero di Giovanni con ancora più forza c'è proprio un fondamento teologico di questo divieto che ha fermato l'inchierezza. E Giovanni 3.17 Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicarlo ma per salvarlo. E come dice questo è vero perché colui che non giudica dovrebbe essere sottoposto al giudizio legittimo di un giudice e nel regno eterno essere consegnato al giudizio della vita interna. Come vedete la ricerca si fa questo incontro si fa sempre per minima giudizio da parte di Gesù non ci può essere lui però si sottopone a un potere in cui sembra di conoscere l'autorità e questo potere anche lui non giudica. Quindi Pilato e Gesù indicare del regno montano e delle celeste si stanno l'uno di fronte all'altro nel pretorio di Gerusalemme tra l'altro gli archeologi hanno creduto di identificare meglio lo scato in questo luogo che forse non è lontano sembra da dove si trova attualmente il palazzo di giustizia di Srelle lo stesso in cui nel 1963 fu giudicato e condannato a Wolf Eichmann Quindi per testimonare della verità Gesù deve affermare e nello stesso tempo smentire il suo regno che non è di questo mondo e tuttavia come dice vicinissimo anzi a portare l'umano dal punto di vista del diritto la sua testimonianza non può che fallire e finisce infatti in una falsa la corona di sfide il mato di polvo con una canna conoscenza quindi Gesù che è venuto non a giudicare il mondo ma a salvarlo si trova forse proprio per questo a dover rispondere in un processo a sottostare a un giudizio che però il suo alter ego più lato non pronuncerà non può pronunciare giustizia e servenza non possono essere cucerati tornano ogni volta almeno così mi sembra a escludersi di scelta anche se insieme si chiamano a scelta per questo un imparimento di pietra di giudicare e cocavanà né il giudizio né la salvezza hanno luogo e si finiscono in un comune indeciso e indecisibile l'ordine giudizio l'ordine giudizio ha condannato l'umanità a una crisi incessante incessante perché non può mai essere decisa una volta per me e l'ho detto per concludere che sarei tornato sulla parola crisi giudizio in greco mi sembra infatti che il processo di Gesù almeno come l'ho ricostruito come processo senza giudizio senza crisi contiene in qualche modo un'allegoria del nostro tempo l'insolvibilità in questo scontro fra i due mondi tra Pilato e Gesù si attesta in un certo modo nelle due idee chiari della modernità da una parte che la storia sia un processo infinito la nostra concezione della storia è un processo infinito e dall'altra che questo processo in quanto non si conclude in un giudizio in volta per tutte si è stato di crisi permanente da quando la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico sapete che la Chiesa non ama più parlare della fine dei tempi nel giudizio universale il termine crisi spostato dal suo luogo giudizio finale riappare oggi in forme catologiche in ogni ambito innanzitutto come sapete bene ma come strumento di governo sapete bene che oggi la parola crisi non è un concetto è soltanto uno strumento di governo per imporre alla gente misure che non c'è nessuna ragione in città e con questo spostamento il termine diventa appunto una parola d'ordine per il suo significato proprio e allora si fa le volte in considerazione su qual è questo significato proprio nel termine crisis a parte la tradizione giuridica di cui ho parlato convergono due grandi tradizioni una medica e una teologica nella medicina antica crisis designa il momento in cui il medico deve giudicare se il paziente sopravviverà o no questo è il momento della crisis anzi nella tecnologia della medicina antica è il giorno decisivo dies lecretori il giorno decisivo è un giudizio decisivo legato al momento legato al momento preciso nel percorso della malattia l'altra tradizione quella teorica è la crisis come forse sapete è il termine greco nel nuovo testamento per il giudizio finale la nomina anche qui però il giudizio finale è legato a un momento l'ultimo giorno la nuovissima tis quindi vedete che nella tradizione che converge e densificato la parola crisi il giudizio che è in questione è sempre legato a un momento ed è un giudizio che si prende una volta per tutte che sia il giudizio del medico sulla sopravvivenza o il non il paziente o il giudizio finale oggi invece la crisi è stata separata dal suo giorno decisivo e trasformata in una condizione permanente conseguentemente la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla ovvero come è venuto a Pilato e come avverrà forse a noi si rovescia improvvisamente in catastrofe l'indeciso Pilato non fa che decidere senza decidere il deciso Gesù non ha alcuna decisione da prendere grazie 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 grazie